ciao ragazzi abbiamo qui con noi la hiros predator ltd la racchetta utilizzata da gonzalo rubio carbonio 12k gomma super soft bilanciamento medio alto forma diamante racchetta interessantissima prezzo di destino 380 euro peso 353 grammi questa qui nello specifico e come vedete rispetto all'anno scorso hiros ha firmato tutte le racchette con il marchio idrogen visto il suo talizio che hanno fatto anche per quanto riguarda l'abbigamento